Il trattamento nella cabina di ossigeno-zono accelera le azioni di dimagrimento innescate dall'attività fisica. All'interno viene emanata una miscela di ossigeno-zono che penetra attraverso le cute e disgrega i grassi, stimolando la crescita della massa magra. La seduta dura 15 minuti e si rimane comodamente distesi. Immediata è la sensazione di relax e di pelle che respira. Questo trattamento stimola la circolazione e la tonicità dei tessuti, contrasta la sensazione di pesantezza alle gambe e impedisce la formazione di acido lattico nei muscoli.